per me i volontari sono campioni di tutti i giorni sono delle persone comuni che forti del proprio senso civico rendono migliore la comunità in cui vivono si relazionano con tutti i protagonisti della società fanno cultura nel senso che aiutano le istituzioni a cogliere in anticipo i bisogni e a dare delle risposte innovative e questo è evidente proprio nell'azione di tutela e promozione dei beni comuni la tutela dell'ambiente del paesaggio delle risorse materiali e immateriali offrono alla società civile degli spazi nuovi e importanti spazi di protagonismo in cui andare a sperimentarsi dando vita a nuove forme di aggregazione valorizzando le comunità locali e le loro capacità di creare sviluppo da tempo c'è se lunette insieme con i centri di servizio per il volontariato lavora in percorsi di formazione in percorsi di accompagnamento di promozione in alcuni casi anche di gestione diretta di beni comuni è un bagaglio di conoscenze di esperienze che ci aiutano a costruire insieme ogni giorno un nuovo modo di condividere e gestire gli spazi a favore della collettività Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!